ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video sapete benissimo che con questo canale trovate argomenti che riguardano il mondo dello sviluppo di videogiochi quindi come trasformare questa semplice passione in un lavoro ma non trattiamo questo mondo soltanto dal punto di vista della programmazione ma anche dal punto di vista grafico e anche dal punto di vista sonoro questo perché? perché secondo me è veramente molto importante che anche uno sviluppatore che lavora dalla sua stanzetta quindi da casa è molto importante magari conoscere anche tutti gli altri rami vi ho fatto vedere anche nelle live ma come vi dico spesso che sono tantissimi sviluppatori di successo che hanno fatto anche dei videogiochi totalmente da soli oggi vi voglio parlare di uno dei tool che ho utilizzato veramente tanto in passato infatti è stato uno dei primi programmi che mi ha fatto avvicinare seriamente a questo mondo sto parlando di blender 3d secondo me è uno dei migliori software per iniziare con la modellazione 3d rimanete connessi perché vi devo fare un mega annuncio prossima settimana ci sarà qui ospite su questo canale un modellatore 3d molto esperto che appunto lui lavora per diverse aziende molto grosse non vi spoilerò nulla e prossima settimana vi parlerà invece lui su come trasformare questa semplice passione che lo era appunto per lui in una vera e propria professione molti di voi già lo conoscono perché l'ho nominato spesso nei miei video era mio conquilino a londra lui è rimasto lì quando io adesso sono tornato qui in italia e quindi restate connessi perché ci sarà quel video se state vedendo questo video nelle settimane successive controllate la descrizione che trovate direttamente il link al video blender 3d è un tool totalmente gratis open source che ti permette di iniziare a realizzare modelli 3d la cosa bella è che con blender non si realizzano soltanto i modelli ma si possono anche animare creare ad esempio il rigging quindi le ossa oppure un engine che ti permette di fare piccoli giochi che però sconsiglio di utilizzare questi sono soltanto alcuni modelli messi in vendita da me sulla piattaforma turbo squid e ogni tanto a dire la verità mi arriva qualche vendita la cosa bella di questo programma è che è veramente veramente semplice da utilizzare con questo video non voglio entrare nel dettaglio con questo tool ma cambiamo subito in quadratura e vi faccio vedere come si scarica blender 3d e anche come si inizia ad utilizzare quello che vi consiglio però è di andare a vedere nei dettagli tantissimi tutorial che sono invece disponibili su youtube eccoci qua all'interno del sito blender.org che lascio il link in descrizione e per scaricarlo ci basta semplicemente cliccare sul bottone download blender che attualmente ha la versione 2.79 possiamo scaricare blender per qualsiasi sistema operativo windows mac e linux e attualmente il browser riconosce che stiamo utilizzando linux quindi ci consiglia di scaricare appunto la versione per windows una volta cliccato il bottone download ecco qui che in basso parte l'eseguibile una volta finito ci basta semplicemente avviarlo installare blender e poi ci basta avviarlo una volta aperto blender 3d ecco quale sarà appunto la sua schermata principale sono passati veramente tantissimi anni dall'ultima volta che l'ho utilizzato ma credo appunto che l'interfaccia è rimasta un po' la stessa in basso possiamo andare in object mode in edit mode che sono le due modalità che ci permettono appunto di spostarci dalla semplice visione appunto la possibilità di modificare il nostro oggetto questi punti che vedete qui sono i vertici e come vedete nell'immagine che adesso vi sto mostrando vi consiglio sempre di realizzare modelli low poly per low poly vuol dire appunto pochi poligoni quando ad esempio noi importiamo un nostro modello all'interno di engine come ad esempio unity o unreal engine se stiamo specialmente sviluppando modelli per dispositivi che comunque non hanno tantissima potenza di calcolo consiglio sempre di realizzare modelli 3d con pochi poligoni ma lo stesso vale anche se stiamo realizzando giochi per computer ottimizzare poligoni è una delle cose importante che poi insieme all'esperto che vi porterò qui sul canale vedremo nel dettaglio la cosa stra interessante di questo tool è che ci permette di fare veramente tantissime cose qui sulla sinistra abbiamo tutti dei pannelli molto interessanti ad esempio qui su create possiamo andare ad aggiungere alcuni modelli come ad esempio qui questa semplice scimmia che è ormai la mascotte di blender utilizzando la rotellina del mouse possiamo fare uno zoom in e uno zoom out invece cliccando sulla rotellina possiamo appunto muoverci attorno ad esso mi ricordo che qui sulla destra possiamo applicare dei modifier e possiamo ad esempio applicare anche il subdivision surface che ci permette di migliorare ma in questo caso aggiungere moltissimi poligoni al nostro oggetto infatti se ne andiamo in edit mode ecco quali sono i suoi poligoni sono questi qui se invece vado ad aggiungere ad aumentare la sua risoluzione e vado ad applicarlo guardate un po cosa succede che quando io vado ad applicare questo oggetto vado in edit mode guardate quanto ne ha adesso un oggetto con tantissimi vertici solitamente serve utilizzato più per le animazioni che per i videogiochi ma tutto dipende da cosa volete sviluppare con questo video non voglio entrare nel dettaglio su come utilizzare questo tool perché non basterebbe un video di due tre ore perché con questo tool possiamo veramente fare tantissime cose quindi quello che consiglio è di sfruttare internet e di andare a vedere i tantissimi tutorial che ci sono a disposizione fatemi sapere però qui sotto con un commento se vi piacerebbe magari avere in futuro un corso totalmente gratuito da portare sul gruppo sviluppare giochi quindi cercherò in base ai vostri feedback magari di coinvolgere qualche persona disposta appunto a portarci contenuti di questo genere questo tool per me rimane uno dei tool più belli che io abbiamo utilizzato forse perché ero un po piccolo ma forse perché veramente ti permette di fare tantissime cose mi piaceva veramente tanto vi consiglio quindi ragazzi di dargli assolutamente un'occhiata specialmente se volete fare un po tutto o se vi piacerebbe comunque anche soltanto informarvi e consiglio quindi di sfruttare youtube e internet in generale per i tantissimi video a disposizione che ci sono sulla rete come avete potuto vedere blender non è difficile da utilizzare io cosa ho fatto all'inizio quando scaricavo questo tool l'unica cosa che ho fatto è stata quella di vedermi tantissimi video online e consiglio di fare la stessa identica cosa a quelle persone che magari vogliono impararlo ad utilizzare la cosa stra interessante di questo tool è che possiamo realizzare i nostri modelli 3d e poi importarli su unity o anche su unreal engine ma molti invece lo saprete cosa fanno realizzano il modello 3d e poi lo importano su construct sotto forma appunto di immagine 2d prendono un modello 3d di una macchina prendono il modello 3d in una certa angolatura esportano questo modello da quell'angolatura in png e poi lo inseriscono appunto all'interno del videogioco quello che vi consiglio quindi se volete avvicinarvi anche voi a questo mondo in piccolo vi consiglio comunque di dargli un'occhiata magari non è per tutto quello che dico io è meglio concentrarsi comunque anche soltanto su una cosa sola però se siete degli sviluppatori che magari vi piace comunque dare un'occhiata anche a questi tool perché non farlo specialmente se utilizzate come engine ad esempio unity e unreal engine prossima settimana sul canale coinvolgeremo qui un esperto che ci parlerà anche di altri tool quelli più professionali che se usati in maniera costante ti fanno raggiungere veramente qualità pazzesche quindi ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto vi ricordo sempre che all'interno di questa rubrica trovate altri tool gratuiti che ci permettono di migliorarci a noi sviluppatori e vi consiglio quindi di dargli un'occhiata vi dico che nelle prossime settimane ho intenzione di portare anche altre rubriche interessanti sapete benissimo che io realizzo i miei videogiochi con cost track e trovate i link ai video corsi totalmente gratuiti se seguite nel dettaglio vi permetteranno di creare in pochissime ore il vostro primo videogioco in maniera totalmente completa e vi dico anche che il nuovo corso è quasi pronto e sarà totalmente gratuito anche quello quindi ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto fatemi sapere assolutamente la vostra qui sotto con un commento mettete un like appunto se questo video è di vostro gradimento ci vediamo come ogni giorno con un nuovo video domani e domenica e non so effettivamente se riesco ad essere in live ma forse ci riusciamo a vedere di mattina quindi vi aggiorno sul gruppo facebook quindi consiglio di fare un salto e ci vediamo quindi come ogni giorno con un nuovo video e quindi ci vediamo domani ciao ciao